No, non può funzionare Ehi Twilight Ancora sveglia Metto a punto il contro incantesimo Abbiamo una sola possibilità, deve essere perfetto Siamo fortunate ad averti qui È quello che non smettete di dirmi A chi serve tanta panna montata? Deve essere bello che tutti ti chiedano sempre dei consigli per i propri problemi Invece di credere che sia tu a crearli Solo perché tutti si aspettano qualche cosa Non è detto che tu riesca a dargliela Ma nessuno rinuncia alle proprie aspettative Il che peggiora la situazione perché l'ultima cosa che si vuole È deludere le persone Ma Cini ha moltissima fame Non riesco ancora a credere che sia parente di Pinkie Pie Già, nemmeno io Me ne andrò un po' a dormire Buona fortuna con il tuo lavoro Ma non ne hai bisogno Immagino sia una sciocchezza Se paragonata ai tuoi incarichi come principessa di Equestria Sunset Shimmer Non fa niente Non ha importanza No Io ci devo riuscire da sola Ci devo riuscire Ehi ragazzi Questo messaggio è per voi Anche se diverse Unite siamo noi Si sono diversa Ma fedele resterò Perciò Ehi E poi canterò Se amicizia Non darai Il controllo perderai Con l'amore che farai Tutto quello che vorrai L'amicizia poi ci darà Porta per contrattare Con ogni tua malvagità Eh beh non sembrava già meglio rispetto alle ultime cinque volte che l'avete provata Eh no Mi sembra piuttosto ovvio che questo controincantesimo non va bene Il tuo accompagnamento di chitarra è diventato una solo di cinque minuti Ho voluto provare a migliorare la situazione E voi ci avete provato? Io ci ho provato Va bene Miglioreremo Su un'altra volta da capo Scusate Non sarebbe meglio fare una pausa Perché non diamo un'occhiata ai vestitini che vi ho portato? Di questo sono particolarmente orgogliosa Certo potremmo anche indossare qualcosa di un po' più moderno Stiamo cercando di salvare la scuola Che importanza hanno i costumi? Cosa? Un'importanza fondamentale direi Vuole soltanto divertirsi un po' È per divertirci che abbiamo formato la band Oh no Non c'è più tempo per discutere Dobbiamo presentarci alla gara tra un quarto d'ora e quindici minuti Che cosa? Quanto d'ora? Ma non siamo pronte? Se suonassimo il controincantesimo non funzionasse Saprebbero che cosa abbiamo in mente E ci impedirebbero di continuare Allora dobbiamo prendere tempo Così tu puoi continuare a lavorarci E cosa proponi per prendere tempo? Partecipiamo sul serio alla gara fra band Io sarò la voce solista E andremo avanti fino alla finale Quando faremo il controincantesimo Per allora sarà pronto vero Twilight? Ma certo che sarà pronto Twilight ha sempre risolto qualsiasi problema Giusto Twilight?